nell'ambito della dieta mediterranea in ottica preventiva eh cardiovascolare ma anche oncologica eh le fibre hanno un ruolo molto importante. Le fibre sono carboidrati che non vengono assorbiti dal nostro organismo e grazie a questo hanno dei vantaggi perché eh eh a livello di stomaco orizzato rallentano lo svoltamento e quindi conferiscono un senso di sazietà e vengono ehm eh metabolizzati dai nostri batteri intestinali in modo particolare dai batteri positivi quelli che eh producono vitamine e anticorpi eh imbrigliano il colesterolo e gli zuccheri per cui si ha un minore assorbimento di eh colesterolo appunto e di eh zuccheri e carboidrati in in genere e quindi hanno anche un beneficio in termini di eh controllo della glicemia e della eh colesterolemia. Ehm nell'ambito delle fibre è importante sottolineare il ruolo dei cereali integrali, fibre che troviamo anche per esempio però anche nella frutta, nella verdura, nei legumi. Ma perché eh vorrei sottolineare l'aspetto cereali integrali? Perché noi in Europa del sud ne consumiamo poco, consumiamo intorno ai dieci, quindici grammi al giorno, al contrario i popoli eh fin lo Scandinavi ne consumano cinquanta, sessanta grammi. È un beneficio enorme eh avere almeno cinquanta grammi nella nostra alimentazione, cinquanta grammi che si ottengono facilmente perché eh basterebbero tre porzioni di cereali, che vuol dire tre porzioni, una fettina di pane, un un piatto di pasto riso da ottanta grammi, tre quattro fette biscottate ehm a colazione o anche ehm tre cucchiai di cereali integrali sempre a colazione. Ebbene è facile quindi raggiungere tre porzioni nell'ambito della giornata ma un beneficio enorme perché la si ha una riduzione degli della mortalità cardiovascolare del venti per cento della mortalità per tumori del dodici per cento. Quindi con un semplice gesto possiamo incidere in maniera netta sulla nostra salute.